ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale stilograficamente il canale dove la mente si rivolge al bello ed oggi il bello prende le sembianze di questa magnifica visconti van gog starry night starry night devo ringraziare gli amici di buy pay shop per avermi prestato questa penna per avermela fatta osservare per la prima volta perché questa innanzitutto non esiste in occidente questa è un'esclusiva l'avrete notato le finiture non sono color argento perché questa è un'esclusiva che è nata per il mercato cinese non so se sarà possibile sdoganarla in accordo ovviamente con visconti anche per l'occidente ma tant'è che questa penna è nata per la cina per cui abbiamo la fortuna di vedere un esemplare che non si vede sicuramente tutti i giorni qui in occidente e andiamo a prendere in esame le parti che compongono questa penna faremo una prova di scrittura parleremo di del quadro che la ispira farò un mini diciamo accenno a tutto quello che questo quadro ha per me perché ho scoperto che è una cosa che sicuramente abbiamo in comune io e agostino di buy pay shop è la preferenza proprio per il quadro la notte stellata o starry night di vincent van gogh allora cominciamo con l'esaminare le parti di questa penna logo visconti qui in sommità my pen system per cui con un magnete potete togliere il logo e inserire una gemma preziosa un simbolo zodiacale o le iniziali del vostro nome se volete personalizzarla dopodiché la clip classica visconti alla quale ci hanno abituato che ricalca ponte vecchio di firenze resina naturale sfaccettata in 18 sfaccettature minuterie in color oro rosa placate in oro rosa non solo color è proprio oro rosa poi qui abbiamo la scritta sulla veretta van gogh e visconti italy è una zigrinatura che la contraddistingue veretta che cala dolcemente verso il fusto della penna guardate che belle le volute di questa di questa resina ogni esemplare è diverso dall'altro se non ci credete vi metto a paragone la personale di agostino e come potete vedere le fantasie non sono identiche ok quindi questo è l'esemplare personale di agostino vi farò vedere poi perché mi ha concesso gentilmente anche il suo esemplare continuando ad osservarla nelle sue parti che la compongono il fondello è specchiato non so se riesco a mettervelo a fuoco è molto difficile ecco qui il fondello è specchiato sempre in color oro rosa come il resto della della minuteria di questa penna il cappuccio è magnetico e si infila appunto a pressione per cui con un lieve a un invito cioè può essere inserito soltanto in pochi modi per cui con una lieve rotazione entra del tutto rivelando un pennino in acciaio sempre placato in oro rosa numero 5 edito da bock e come potete vedere c'è la scritta visconti il la gradazione del pennino in questo caso parliamo di un brood foro di sfiato classico tondo e la firma del pittore van gogh ok sezione in metallo ma comunque una un anello finale un spessimento della sezione vi avvisa che qui termina e quindi non dovreste andare oltre per non andare su quello che è un alimentatore in plastica misura 5 appunto la penna ha un meccanismo di caricamento a cartucce o convertitore il converter è incluso ed è serigrafato visconti quindi c'è il marchio visconti come vi sto facendo vedere e poi all'interno la filettatura è metallica quindi parliamo di metallo su metallo fatto per durare quindi non metallo su plastica che tende un po a notato una cosa strana ogni tanto il converter fa resistenza ad avvitare il fusto non so perché però questo è questo è l'esemplare così come viene fabbricato adesso perché la personale di agostino ha un pennino sempre misura numero 5 per quanto riguarda il converter però come potete vedere è un pennino più piccolo a vedersi è più piccolo ora naturalmente li faremo scrivere entrambi visto che ci troviamo come potete notare c'è una lieve differenza anche nel come si incastra nella nella sezione di scrittura il converter misura esattamente la stessa larghezza è solo più corto il pennino ma la larghezza alla base è la stessa in questo caso parliamo di un pennino vediamo un po dovrebbe essere un m o un f non vorrei dire fesserie e così approfitto anche per farvi vedere il modello non riesco a evitare i riflessi comunque vabbè agostino segnala che questo pennino è purtroppo caduto di punta e lui l'ha aggiustato con dice lui strumenti non professionali dico io vista la resa del pennino non voglio rovinarvi la prova di scrittura però direi che ha fatto un ottimo lavoro il pennino scrive perfettamente ok detto questo so che smaniate per la prova di scrittura però soffermiamoci un attimo a parlare un po di questo quadro della starry night allora per quanto riguarda la notte stellata si dice alcuni pensano che si fosse una delle viste della della casa di cura di saint paul de mausole ma in realtà dove l'artista si auto ricoverò con una diagnosi di epilessia nella realtà dei fatti il paesaggio ritratto nella notte stellata è assolutamente tutto immaginario non c'è vista da nessuna delle finestre che vi offra quello che offre il quadro per cui è decisamente un quadro unico per un artista che ha sempre dipinto en plein air per cui sempre al di fuori sempre a diretto contatto con la natura e con quello che era l'oggetto della della sua arte quindi quello che possiamo dire di questo quadro è che è uno dei pochi quadri a cui il pittore non fa cenno puntuale nelle sue lettere lui aveva una fitta corrispondenza con con il fratello teo e l'unico accenno forse che fa al quadro è quando gli scrive guardare il cielo mi fa sempre sognare perché mi chiedo i punti scintillanti del cielo non sono accessibili come i puntini neri sulla cartina della francia proprio come prendiamo il treno per andare a taraxon o a rowen così prendiamo la morte per raggiungere una stella questo quadro fu dipinto nel 1889 e soltanto un anno dopo in 1890 il l'artista decise di per di prendere quel treno del tristo mentitore perché infatti pose fine alla sua vita all'età di 37 anni lasciandoci con un'eredità che a livello mondiale è stata purtroppo riconosciuta soltanto diverso tempo dopo lui era un precursore per cui è come se diciamo questo questo anelito questo disagio che aveva a suo interno abbia trovato finalmente una porta di libertà da cui poter far involare il suo spirito il suo quadro ritrae un cipresso e la cosa interessante è che in realtà il cipresso non è ritratto solo in questo quadro ce n'è anche un altro che dipinto in diurna questo quadro diciamo manca di tutta la magia che c'è nella notte stellata perché nella notte stellata infatti l'artista dice anche tra le altre cose che la notte spesso penso che la notte sia più viva e più riccamente colorata del giorno come se i colori della notte fossero anche un po di natura differente più vividi più vivaci più carichi infatti sono carichi di mistero per un artista abituato a essere attivo nell'immaginazione per cui a trovarsi di fronte a una tela completamente sgombra di colore di di tratti e a porci libero rimedio di questo vuoto con la sua arte evidentemente la natura della notte non poteva altro che essere una sorta di tela su cui la sua immaginazione potesse riflettere nature differenti infatti il cipresso nella notte stellata assume quasi l'aspetto di un fuoco che divampa con delle fiamme che lambiscono il cielo come a voler toccare gli astri che fissi illuminano e vegliano sulla notte infatti c'è tutto un turbinio di di vento notturno di questo turbinio che sembrano quasi i nostri sogni che si avviluppano nelle ore notturne ma le stelle sono lì fisse che brillano e questo fuoco fuoco nero che è tellurico della terra che divampa verso l'alto sembra proprio essere una dimensione data dall'immaginazione di questo maestro della pittura che ci fa pensare che la notte le cose abbiano una vita completamente differente è una dimensione che sfugge alle solite tre dimensioni dei nostri sensi dei nostri dei nostri grossolani organi sensori per cui la notte il regno anche in cui la nostra capacità di immaginazione di azione per immagini e anche la nostra diciamo fantasia si possono involare sfuggendo alla gravità della materia e così lo spirito di questo di questo artista ci ha lasciato prematuramente ma con una vita decisamente vissuta in modo intenso quindi tornando scusate la divagazione tornando a questo quadro veramente per me significa significa tantissimo è stato una suggestione sempre profonda per me comunque torniamo a parlare della penna e sottoponiamola a una prova di scrittura allora visconti van gogh penino b in acciaio placcato in oro rosa inchiostro ho deciso di commemorare questo artista con un inchiostro altrettanto olandese quindi akerman sbre brown e vediamo come si comporta a livello di continuità di flusso soltanto accelerando veramente tanto riesco a ottenere dei dei piccoli skipping e lasciatemi dire accelerando ma anche ruotando un po il pennino questo è un pennino che non perdona le rotazioni devo dire però mi ci sono trovato piuttosto bene cioè non gratta in nessuna delle direzioni ogni tanto qualche piccolo skipping dovuto probabilmente a una caratteristica un po dei pennini bock che è quella di avere dei baby bottom nulla di grave si può rimuovere con un poco di micro mesh io non l'ho fatto perché ho deciso di mostrarvi la pena così come è arrivata nelle mie mani soprattutto i pennini un più grossi sono inclini i pennini della bock ad avere un po di baby bottom bottom però come potete vedere la seconda prova è andata anche molto meglio ho accelerato ma non ho avuto problemi di continuità di flusso sarete curiosi di sapere come scrive il pennino del signor agostino vediamo innanzitutto se è rimasto inchiostro perché comunque anche questa penna molto 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 poco vediamo se ci degnerà di un poco di scrittura con quest'ultima gocciolina rimasta di parafernalia nero e credo che la cosa migliore sia citare un po il nostro buon artista non ho voluto accelerare questa scrittura perché volevo farvi sentire anche il suono diverso questo è un pennino decisamente più fine e anche meno levigato se vogliamo la caratteristica di un pennino così piccolo oltre a essere chiaramente piccolo rispetto all'altro è che in realtà un pennino più piccolo praticamente incline a un angolo di scrittura rispetto al foglio e alla vostra mano con un'incidenza sicuramente più elevata cioè un angolo maggiore questo significa che la forza di gravità oltre al fenomeno della capillarità si vanno a sommare per garantirvi un flusso di scrittura decisamente più continuo più affidabile ancora non che abbia problemi col pennino più grande però questa caratteristica da tenere in considerazione per chi è un fan dei pennini grandi sappia che logicamente se si scrive con un pennino grande il foglio viene incontrato con un angolo decisamente diverso almeno che non forziate la vostra presa per avere un'incidenza maggiore ok quindi sfruttare di più la forza di gravità dovete conoscere il vostro strumento di scrittura tutto qua è quello che vi consente di fare più o meno facilmente chiaramente io preferisco ma come mio discorso puramente estetico io preferisco i pennini un po più grandi ma sono consapevole che un pennino più piccolo tende a scrivere più facilmente proprio perché si somma la forza di gravità a quella al fenomeno della capillarità dell'alimentatore va bene bando le ciance scriviamo una pagellina di questo strumento di scrittura come sempre scrivo tutto e commentiamo alla fine ok allora per quanto concerne il flusso direi un 8 su 10 tolgo due punti per via degli skipping saltuari va detto che su rodia il fenomeno dello skipping è accentuato non ho avuto lo stesso tipo di comportamento con delle carte che avessero un minimo di trama delle carte che potessero diciamo aiutare il pennino a essere un po più come posso dire ancorato la carta ok va bene il feedback 8 su 10 perché comunque in questo caso parliamo di un pennino forse un po troppo levigato per cui mi riservo di ritoccarlo un pochino con della micromesh per farlo scrivere un pochino meglio in futuro manutenibilità 10 su 10 perché comunque la penna a cartucce o converter rapporto qualità prezzo 7 e mezzo su 10 ma non peraltro solo per il pennino bock pennino bock che secondo me qualche problemino ce l'ha ma per il resto la penna è decisamente meravigliosa cioè il pennino bock in questo caso broad per cui questo esemplare questa gradazione hanno dato qualche problemino con la penna personale di agostino che oltretutto aveva piegato il pennino perché gli era caduta la penna a terra poverino è riuscito comunque a ottenere con un minimo sforzo un pennino che scrive divinamente aveva piegato il pennino perché gli era caduta la penna a terra poverino è riuscito comunque a ottenere con un minimo sforzo un pennino che scrive divinamente ci vuole un poco di esperienza un po di manualità le stilografiche non sono penne fatte per chi si arrende cioè secondo il mio modesto parere sono fatte per persone che dopo un po di pratica magari con penne cinesi hanno deciso di fare del proprio strumento di scrittura lo strumento delle proprie mani ideale dicevo rapporto qualità prezzo sette e mezzo su dieci solo per il pennino perché poi il resto della penna guardate che bella è magnifico materiali neanche a dirlo dieci su dieci questa resina naturale riproduce perfettamente il contrasto di colori del giallo del blu del bianco c'è anche una tonalità di bianco per cui l'oro rosa mi fa pensare a praticamente i primi raggi del mattino che sarebbero venuti dopo aver finito il quadro perché dopo aver dipinto una notte stellata l'alba è di lì appresso bilanciamento 10 su 10 perché sezione metallica pennino ovviamente metallico il resto è un po' più leggero quindi il fulcro è decisamente sulla sezione non avete problemi di sbilanciamento all'indietro la penna si può postare si può calzare sì sì per cui se avete anche in termini di impugnabilità potete allontanarvi a piacimento state soltanto attenti a non graffiare questa bellissima resina tutto qua bene io direi che per questo esemplare ho detto penso la maggior parte delle cose che avevo in mente di dire sicuramente non tutte perché soprattutto sul quadro sulla vita di van gogh ci sarebbe tantissimo da dire ma non volevo annoiarvi volevo soltanto giusto darvi qualche piccolo accenno quando una stilografica me lo consente perché no fare qualche divagazione non è un delitto bene spero che non lo sia neanche per voi insomma grazie per avermi seguito fin qui ringrazio agostino per avermi prestato questa penna e fatemi sapere cosa ne pensate dovrebbero sdoganarla i signori di visconti dovrebbero consentire anche in occidente ho sentito dei rumors che forse forse hanno intenzione non lo so non ho idea è davvero non ho idea se questa penna verrà o meno esportata anche in occidente venduta anche in occidente per il momento è soltanto esportata in cina cioè è nata come esportazione in cina per cui non so dirvi come si svilupperà intanto ho colto l'occasione visto che l'ho vista ad agostino e subito il mio occhio di falco ha detto quella quella la voglio recensire e quindi lui mi ha fatto anche la gentile concessione di farmi provare questo esemplare con pennino broad bene grazie a tutti voi e al prossimo video stilograficamente parlando ciao a tutti